Cose che voi già sapete all'inizio, poi andiamo in quello che non sapete, cioè che non sapete. Io credo che voi non sappiate la votazione delle cose che non sapete. Questo quadro rappresenta il cardinale e il suo palazzo in piazza San Giovanni Maggiore. Si trova a Firenze nella galleria della famiglia Corsini. Questo quadro viene in questo palazzo, che fu un palazzo che nel 1799 è salito dal popolo per bene considerati Giacobini, questi qui, i suoi scendenti. Giacobini significava libertà, i fratelli di te, quindi per il popolo e invece il popolo, cioè il Napoli è tutto il contrario e il contrario. In Francia è il popolo che capito il re. A Napoli il popolo difendirebbe, però è detto così. Allora, il suo palazzo, qui c'è sul balcone principale il suo stemma e l'altro stemma sul portone, non so se lo vedete qui. Questo è sparito. Questa è la fotografia di oggi del palazzo. Questo è il suo stemma. Oggi è la sede dell'Università di Sassunio di Riccardo. Questo è il suo stemma e questo di qui è sparito. Allora, prima prossima, grazie.